Ingredienti per 4 persone Hummus di ceci 300 grammi di ceci già cotti oppure secchi 3 cucchiai di olio di oliva 2 spicchi di aglio 2 cucchiai di olio evo Succo di 2 limoni 2 cucchiai di taina Preparazione Hummus di ceci Hummus di ceci Se usate ceci secchi, per prima cosa dovete metterli a mollo in acqua fredda per 24 ore con il doppio del loro volume di acqua. In seguito scolateli e risciacquateli bene, poi cuoceteli per circa mezz'ora in una pentola a pressione, con abbondante acqua, salata oppure lessateli per 50 minuti in una normale pentola, fino a che non diventino teneri. Scolateli e metteteli da parte. Mettete 3 cucchiai di olio di oliva, in una padella antiaderente insieme all'aglio e alle spezie in polvere e fatele tostare a fuoco medio per pochi minuti. Aggiungete nella padella i ceci scolati e lasciateli insaporire per altri tra 2 e 3 minuti. Mettete il tutto in un mixer e unite anche la taina, il limone e l'olio di sesamo. Frullate fino ad ottenere osto omogeneo e cremoso.